Le parole strega, sorcier e witch sono parole recenti. La figura della strega all'interno delle comunità alpine è una figura pluriforme ed è una figura leader. Nel senso che prima di tutto è quella donna che conosce un po' di più delle altre la natura e sa guarire. Per cui probabilmente in tutti i villaggi c'era quella che era un po' più brava nel conoscere le erbe, quella che aveva un po' più di pratica o era anche più vecchia perché la vecchiaia porta l'esperienza, porta la conoscenza. La strega è anche colei che si ribella al potere perché per un periodo molto lungo dalla caduta dell'impero romano in cui le comunità delle montagne riprendono controllo del territorio esiste questo conflitto col potere cittadino per poter mantenere il controllo sul territorio e l'uso collettivo dei mezzi di produzione.